Prima Re, capitolo 13. Un uomo di Dio è giunto da Giuda a Betel per ordine del Signore, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare incenso, e per ordine del Signore si mise a gridare contro l'altare a dire, Altare, altare, così dice il Signore. Ecco, nascerà alla casa di Davide un figlio di nome è Giosia, il quale sacrificherà su di te i sacerdoti degli alti luoghi che su di te bruciano incenso, e si arderanno su di te, osso umane. E quello stesso giorno diede un segno miracoloso dicendo, questo è il segno che il Signore ha parlato, ecco l'altare si spaccherà e la cenere che vi è sopra si disperderà. Quando il regge Geroboamo udì la parola che l'uomo di Dio aveva gridato contro l'altare di Betel, stese la mano dall'alto dell'altare e disse, pigliatelo. Ma la mano che Geroboamo aveva steso contro di lui rimase paralizzata e non poteva più tirarla indietro. L'altare si spaccò e la cenere che vi era sopra si disperse, secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per ordine del Signore. Allora il re si rivolse all'uomo di Dio e gli disse, ti prego implora la grazia del Signore affinché mi sia resa la mano. E l'uomo di Dio implorò la grazia del Signore e il re riebbe la sua mano che tornò come prima. Il re disse all'uomo di Dio, vieni con me a casa, ti ristorerai e io ti farò un regalo. Ma l'uomo di Dio rispose al re, anche se tu mi desti la metà della tua casa, io non entrerò da te e non mangerò pane né berrò acqua in questo luogo, poiché questo è l'ordine che mi è stato dato dal Signore. Tu non vi mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la strada che avrai fatto all'andata. Così egli se ne andò per un'altra strada e non tornò per quella che aveva fatto venendo a Bete. C'era là un vecchio profeta che abitava a Bete e uno dei suoi figli venne a raccontargli tutte le cose che l'uomo di Dio aveva fatto in quel giorno a Bete e le parole che gli aveva dette al re. Quando il padre ludì il suo racconto, disse ai suoi figli per quale via se ne è andato, poiché i suoi figli avevano visto la via per la quale se ne era andato l'uomo di Dio venuto da Giuda. Egli disse ai suoi figli, sellatemi l'asino. Quegli gli sellarono l'asino ed egli vi montò su, seguì l'uomo di Dio e lo trovò seduto sotto il terapinto. Egli disse, sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda? Egli rispose, sono io. Allora il vecchio profeta gli disse, vieni con me a casa mia a mangiare. Ma egli rispose, io non posso tornare indietro con te, né entrare in casa tua e non mangerò pane né berrò acqua con te in questo luogo. Poiché mi è stato detto per ordine del Signore, in quel luogo tu non mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la strada che avrai fatto l'andata. L'altro gli disse, anche io sono profeta come te e un angelo mi ha parlato per ordine del Signore dicendo, riportalo con te in casa tua perché egli mangia del pane e beva dell'acqua. Egli mentiva. Così l'uomo di Dio tornò indietro con l'altro, mangiò del pane e beve dell'acqua in casa di lui. Mentre sedevano a tavola, la parola del Signore fu rivolta al profeta che aveva fatto tornare indietro l'altro. Ed egli gridò all'uomo di Dio che era venuto da Giuda. Così parla il Signore. Poiché tu ti sei ribellato all'ordine del Signore e non hai osservato il comandamento che il Signore tuo Dio ti aveva dato e sei tornato indietro, hai mangiato del pane e bevuto dell'acqua nel luogo dal quale egli ti aveva detto. Non mi mangiare del pane, non vi bere dell'acqua. Il tuo cadavere non entrerà nella tomba dei tuoi padri. Quando l'uomo di Dio ebbe mangiato e bevuto, il vecchio profeta che l'aveva fatto tornare indietro gli sellò l'asino. L'uomo di Dio se ne andò e un leone lo incontrò per strada e lo uccise. Il suo cadavere rimase steso sulla strada. L'asino se ne stava presso di lui e il leone pure presso il cadavere. Allora passarono degli uomini che videro il cadavere steso sulla strada e il leone che stava vicino al cadavere e vennero a riferire ciò nella città dove abitava il vecchio profeta. Il profeta che aveva fatto tornare indietro l'uomo di Dio, udito ciò disse, è l'uomo di Dio che è stato ribelle all'ordine del Signore. Perciò il Signore l'ha dato in balia di un leone che l'ha sbranato e ucciso, secondo la parola che il Signore gli aveva detta. Poi si rivolse ai suoi figli e disse loro, sellatemi l'asino. Quelli glielo sellarono. Egli andò, trovo il cadavere steso sulla strada e l'asino e il leone che stavano presso il cadavere. Il leone non aveva divorato il cadavere né sbranato l'asino. Il profeta prese il cadavere dell'uomo di Dio, lo pose sull'asino e lo portò indietro. E il vecchio profeta rientrò in città per piangerlo e per dargli sepoltura. Depose il cadavere nella propria tomba e degli e suoi figli lo piansero dicendo, ah fratello mio. E quando l'ebbero seppellito, il vecchio profeta disse ai suoi figli, quando sarò morto, seppellitemi nella tomba dove è sepolto l'uomo di Dio. Ponete le mie osse accanto alle sue, poiché la parola da lui gridata per ordine del Signore contro l'altare di Betel e contro tutti i santuari degli alti luoghi che sono nella città di Samaria, si verificherà certamente. Dopo questo fatto, Geroboamo non abbandonò la sua via malvagia. Istituì anzi nuovi sacerdoti degli alti luoghi, prendendoli qua e là dal popolo. Chiunque voleva era da lui consacrato e diventava sacerdote degli alti luoghi. Quella fu per la casa di Geroboamo un'occasione di peccato che attirò su di lei la distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra.